Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, come promesso eccoci qui per parlare dell'Under 15 femminile girone quadrangolare di semifinale, partite tutte giocate tra ieri e oggi, quindi molto veloce, molto difficile era difficile mantenere la concentrazione, la Juventus vince il girone e andrà in finale per il campionato nazionale Under 15 non so ancora la finalista quale sarà, ma la Juventus ci sarà la Juve che ha battuto il Torino, ed è proprio il Torino Football Club, non il Torino femminile, per 3-0 con le reti di Giai, Morengo e Nava, lo Spezia ha battuto 2-1 con Giai e Nava ancora e poi contro l'Empoli la vittoria per 2-0 firmata a Magliano e Ferrari insomma ragazzi, non era una cosa facile perché il campionato Under 15 è un campionato molto lungo, molto spezzettato e le ragazze di Mr. Wood, come detto, hanno fatto veramente qualcosa di eccezionale dunque, Juventus Femminile Primavera che vince 4-2 a Vinovo contro l'Inter Femminile Primavera l'Under 15 che conquista un posto in finale, saluto JWS, Juventus Movement Supporter e domani, qui, parleremo della semifinale del campionato Under 15, però maschile Juventus-Napoli non perdetevi, ciao!